Hello! Oggi vi spiego esattamente quando dobbiamo usare l'articolo the, oppure the, the or the. Qual è? Non vi preoccupate, spiego anche la pronuncia. Ok? Let's go! In italiano, the definite article, il, la, i, lo, gli, eccetera eccetera, voi usate spesso. Invece, in inglese, the, non si usa tantissimo. Quindi, per capire quando dobbiamo usare the, prima è più facile di capire quando non lo dobbiamo usare. Quindi, quando non dobbiamo usare the? Praticamente, quando noi stiamo parlando in generale. Per esempio, qualche volta io guardo il calcio. In inglese si dice Non the football, perché calcio in generale. Non sto parlando di una partita preciso. Sto parlando di calcio in generale. Oppure, per esempio, io mangio il cioccolato. In inglese Di nuovo, non metto the, perché io sto parlando in generale. Non sto parlando di un tipo di cioccolato o un cioccolato preciso. In generale, io lo mangio, quindi Oppure un'altra I squali sono pericolosi. In inglese dice Quindi di nuovo, non è Perché sto parlando in generale tutti i squali sono pericolosi. Quindi non serve the. Poi the non si usa quando stiamo parlando dei nomi, dei posti o dei nazioni, per esempio. Quindi per dire Inghilterra è fantastico si dice Non dobbiamo dire Perché è un paese, non lo dobbiamo mettere. Ok? Oppure Oppure Italia è bella. Si dice Non dobbiamo dire Perché di nuovo è un nome di un'azione. Ok? Ovviamente però Questo è inglese. Quindi ci sono delle eccezioni. Per esempio Quando noi stiamo parlando di un gruppo di paesi o un gruppo di stati, per esempio Poi dobbiamo mettere the Per esempio Perché è un gruppo di stati. Oppure Di nuovo perché è un gruppo di paesi. Perché abbiamo E' uguale per Non è un paese, lo so, un'azione, però è un gruppo di nazioni insieme. Quindi sempre dobbiamo mettere the all'inizio. Poi altri esempi per i posti. Si dice Io vado a scuola Non si dice Non c'è bisogno, è un posto, quindi non lo dobbiamo dire. Oppure Non dobbiamo dire È lo stesso per Io vado a lavoro Non è E questo è uno che tutti sbagliano. Dobbiamo dire Vado a casa. Non dobbiamo dire Non c'è niente Poi non si usa the quando stiamo parlando delle lingue. Per esempio Inglese è più facile d'italiano. English is easier than Italian. Non dobbiamo dire the English o the Italian. Non c'è bisogno. È una lingua Quindi si dice soltanto English oppure Italian. Senza the. Poi per esempio Quando stiamo parlando delle nazionalità Per esempio Il popolo inglese Gli inglesi Adesso dipende Perché noi possiamo dire Più o meno Però vedi non c'è the È solo English people Però Se noi non vogliamo mettere people E vogliamo dire gli inglesi Noi dobbiamo dire Adesso dobbiamo mettere l'articolo Perché non abbiamo messo people Quindi possiamo dire O English people Oppure The English Senza people E questo è uguale per tutte le nazionalità Quindi Quando si usa the Una cosa molto importante Prima di andare avanti È che Se vai su internet E dice Quando si usa the Quando non si usa the Ci sono Tanti Tanti Diverse regole Piccoline Eccetera Io non voglio Spiegare ognuno Solo perché È difficile Ricordare tutti Le regole che vi sto insegnando adesso Vanno benissimo Per 95% Delle volte Ok E in questo modo È molto più pratico Per imparare E anche per usarli bene Ok Il primo contesto in cui si usa the È quando c'è solo uno di qualcosa Per esempio Il sole La luna C'è solo uno Quindi dobbiamo dire The sun Oppure The moon Quindi quando c'è solo uno di una cosa Dobbiamo sempre usare the Poi si usa the Quando è ovvio Di che cosa stiamo parlando Per esempio Vedi questo Come on James Hurry up I'm coming I'm here Whoa James Close the door Fine I'm going Now we can go Quindi io ho detto Close the door Perché è ovvio Di quale porta stiamo parlando Ovviamente ci sono tantissime porte Però è ovvio Di quale stiamo parlando Quindi io devo mettere The Prima E lo stesso per esempio Quando si dice Io vado al mare Si dice I'm going to The beach The beach Perché tu sai quale Che devi andare Non è che vai in macchina Senza sapere Quale Quale spiaggia Devi andare Quindi Siccome è ovvio Tu sai quale stai parlando Dobbiamo mettere The beach Oppure Quando si dice I'm going to The bank Vado in banca Di nuovo È ovvio Quale banca Quindi non c'è bisogno Di specificare il nome Si dice soltanto The bank Perché è ovvio Quale banca Dove Devi andare Oppure I'm going to The doctor Vado al dottore Di nuovo C'hai solo un dottore Quindi è ovvio quale Quindi basta mettere The prima The doctor Però Se io dico per esempio Ci incontriamo al pub Io posso dire Let's meet In a pub In un pub qualsiasi Non è importante Quale In base Che ci incontriamo Però se io dico Let's meet in the pub È ovvio Quale pub Stiamo parlando Quindi di nuovo Quando è ovvio Si mette The Adesso spiego Questo concetto Con James James has lots Of sweets Quindi Io chiedo James Can I have A sweet Please Adesso io ho detto Can I have A sweet Uno Qualsiasi Non sto parlando Di uno Impreciso Uno Qualsiasi Quindi io devo usare The indefinite Article Perché è Indefinito Di quale caramella Sto parlando Quindi la domanda Di nuovo James Can I have A sweet Please No way They're mine No No James Questo è per il video Mi devi dare uno Quando io dico Mi dai un sweet Tu devi dire sì Ma non lo voglio dare E dai Facciamo così Non lo mangio Ti prometto Fine Ok Proviamo di nuovo James Quindi di nuovo Io ho detto Uno giallo Qualsiasi Giallo Non è importante Quale Quindi di nuovo Però adesso Vediamo questa situazione Adesso James ha tante caramelle Però c'è solo uno Rosso Quindi io dico James Can I have The red one Please Quindi adesso Io ho detto The red one Perché adesso È ovvio Di quale stiamo parlando Perché c'è solo uno Quindi io ho detto The red one Per specificare Proprio quello E di nuovo Io sto usando sempre The red one One Uno Questo significa Quello In italiano Quello rosso In inglese The red one Quindi La domanda di nuovo James Can I have The red one Please No James Ok Adesso facciamo la pronuncia Quando dobbiamo dire The E quando dobbiamo dire The Praticamente Dipende sull'oggetto Dipende se inizia Con un vocale Oppure un consonante Oppure Per essere più preciso Si inizia con un suono Di un vocale O un consonante Per esempio Se io voglio dire La banana Io devo dire The Banana È The Perché inizia con Un consonante Però se io voglio dire La mela Mela si dice Apple E adesso A È un vocale Quindi io devo dire The apple The apple Adesso Noi facciamo qualcosa In inglese Che aiuta molto Con il connected speech Per mettere Le parole insieme Siccome abbiamo The Un suono finale I Quindi vocale Apple Inizia con un vocale Di nuovo The apple Per metterli insieme Più facilmente Noi mettiamo I In mezzo Quindi diventa The apple Un altro esempio Per dire L'università Adesso Io devo dire The university O The university Perché inizia Con un vocale You Però il suono Non è un vocale È You University Il suono è You Quindi non dobbiamo dire The Dobbiamo dire soltanto The university Un altro esempio Che mio figlio Eddie Dice a me Quasi ogni giorno È questo Avete sentito? Lui ha detto Non funziona l'internet Devi controllare Il wifi Quindi The internet Con la I In mezzo Perché Internet Inizia con il vocale E Quindi dobbiamo dire The Quindi per metterli insieme Dobbiamo mettere L'y in mezzo Quindi The internet The internet Invece Quando lui ha detto Wifi Lui ha detto The wifi Perché Wifi È un consonante Quindi si dice The The wifi Oppure The internet Ok Quindi spero adesso Che l'uso È un po' più chiaro Adesso Ovviamente Come ho detto Io non ho spiegato Tutte le regole Però io ho spiegato Quelle più importanti E più pratici Ok Quindi se segui questo video Sarà giusto 95% delle volte Ok Quindi Thank you very much For watching Please subscribe And I will see you Next time Goodbye